La speranza e la vita unite nella prevenzione, gioia, emozioni, lacrime e ricordi in Irpinia nel corso della tradizionale messa del paziente oncologico. Un appuntamento annuale, quello di Ariano, promosso dall'AMDOS per lanciare un chiaro messaggio a tutti. Questa messa è come l'inizio dell'anno, sempre con la prospettiva di una vita migliore e di portare la prevenzione nelle case di tutti, perché siamo sempre più convinte che la prevenzione salva la vita. E noi dobbiamo essere un esempio per queste persone che intraprendono questo percorso non facile, anche perché si parla di vita, si parla di una famiglia intera. E quando purtroppo si ammala una mamma, si ammala tutta la famiglia. Quindi noi cerchiamo sempre di portare sorrisi e speranze nelle case. Gloria a Dio nell'arco dei cieli e pace in terra ai uomini di buona volontà. Un pensiero verso la vita, un pensiero innanzitutto a guardare con fiducia il futuro, un pensiero a stare accanto alle persone che vivono momenti difficili, di sofferenza, un pensiero anche di incoraggiare queste iniziative che hanno un'attenzione particolare verso un mondo difficile e complicato come quello della malattia.